Abbiamo il piacere di avere qui a Bologna con noi il professor Michel Bitbol. Michel Bitbol è un importante filosofo della scienza francese, ha insegnato filosofia della fisica, filosofia della conoscenza e filosofia della mente all'Università Pantheon Sorbonne di Parigi e attualmente è direttore di ricerca al Centro Nazionale della Ricerca Scientifica a Parigi. Si è occupato per molti anni di ricerca nell'ambito della filosofia della meccanica quantistica ed ora i suoi lavori si concentrano sulla filosofia della mente. Ed è proprio questo il primo argomento che vogliamo affrontare con lui. Nell'ambito della filosofia della mente una delle questioni più complesse e più difficili è quella della coscienza, tanto che il filosofo David Chalmers ha affermato che la riduzione dell'esperienza cosciente a meccanismi neurobiologici è un hard problem, un problema difficile. Perché questa affermazione di Chalmers? Prima di tutto si deve dire che quando dice Chalmers un problema difficile vuol dire infatti un problema impossibile da afferrare dalla scienza. Questo è un po' difficile da capire, specialmente dai scienziati, perché pensano che non è concepibile che un filosofo dica che cosa è possibile o impossibile per la scienza. Per loro solo la scienza potrà dire che cosa è possibile e impossibile per lei, nel futuro lontano. Ma invece Chalmers pensa che ci sono argomenti di principio. E' un argomento di principio che dà per dire che il problema della coscienza non è un problema afferrabile, il problema vuol dire non della coscienza in generale, ma il problema dell'origine fisica della coscienza. Non è afferrabile dalla scienza perché? Perché dice Chalmers ha un argomento. L'argomento è che la scienza si occupa di strutture, strutture matematiche, oppure relazioni tra soggetto e predicato, relazioni tra i fatti, relazioni tra gli eventi che si osservano nella natura. Ma invece la coscienza non è un fatto di tipo strutturale, è un fatto che noi possiamo forse chiamare il solo fatto assoluto che abbiamo. Ecco, siamo coscienti. Con che cosa si mette in relazione? Impossibile saperlo perché ogni cosa che possiamo mettere in relazione con la coscienza è ancora un oggetto di coscienza. Quindi non c'è altro che qualcosa che può essere giudicato, apprezzato, percepito, esperito nella coscienza. Si potrebbe anche dire le cose altrimenti. Si potrebbe dire la scienza elabora delle leggi di connessione tra i fenomeni, quindi dà i fenomeni per contatti. Sono qua, ci sono fenomeni. Che relazioni ci sono tra questi fenomeni? Le leggi della natura che pone la scienza ce lo dice. Invece, se domandiamo da dove viene il fatto massiccio, il fatto ovvio, il fatto immediato che ci sono fenomeni, che qualcosa si mostra, allora non sappiamo più dire niente. Perché la relazione tra fenomeno non può dirci che cos'è un fenomeno, non può dirci da dove viene il fenomeno in generale, il mostrarsi. Questi sono due argomenti di principio e penso che Chalmers ha visto una cosa importante. Anche se dopo, quando pone l'idea, la sua idea che, quindi, poiché la scienza attuale non può afferrare la coscienza, allora si deve aggiungere una proprietà addizionale che si chiama coscienza e fare una nuova scienza della relazione tra questa proprietà addizionale e le vecchie proprietà materiali, qui diventa un dualista ordinario e per me cade in uno schema di pensiero molto meno potente del suo argomento di principio. Ma se è impossibile spiegare in termini oggettivi qualcosa che è essenzialmente soggettivo, appunto, come la coscienza e come, ad esempio, i qualia, che sono gli elementi dell'esperienza in prima persona, non potremmo supporre che la coscienza è semplicemente un'illusione che di fatto non esiste. E questa è quasi una provocazione. Allora, prima di tutto, il ragionamento che fai, ma so che non sei tu a farlo, l'hai preso da Dennett, per fortuna, perché se no ti risponderei con più energia. Allora, questo ragionamento vuol dire tutto quello che non può essere oggetto di scienza non esiste. Allora, certo, si ammette che le sole cose che possono esistere sono fatti oggettivi, questo sembra essere una conclusione naturale, che tutto quello che non è, non ha questo statuto di fatto oggettivo, oggettivo, non esiste. come rispondere a Dennett adesso? Finché Dennett ha posto, ha formulato questa domanda, ha detto in un suo libro, il libro Consciousness Explained, ha detto una cosa straordinaria, c'è una frase che tutti hanno commentato, ma che Dennett dice, beh, forse avete un po' esagerato la sua importanza nel mio libro, ma dice siamo tutti zombies, vuol dire esseri che hanno un comportamento di esseri umani, ma che non hanno un che cos'è di essere questo essere umano, vuol dire che non hanno una coscienza. ma dice Dennett malgrado il fatto che siamo soltanto zombie, noi pensiamo essere coscienti, giudichiamo di essere coscienti, c'è il giudizio di essere coscienti, ma non c'è la coscienza giudicata. Anche questo è un'affermazione di Dennett. Giudichiamo di essere coscienti e dunque Dennett spiega a lungo come è possibile giudicare di essere coscienti e dà per quello degli esempi, dà un esempio per esempio che nella come si dice il dorso del libro dove si legge la riassunta del libro, la terza di copertina, la quarta di copertina e qui fa vedere un bel disegno con delle linee nere verticali, delle linee nere orizzontali ma tagliate nella forma di un anello e poi in mezzo a queste linee nere ci sono linee rosse e noi che cosa vediamo? Vediamo delle linee nere rosse? No, vediamo, abbiamo l'impressione che tra le linee rosse c'è un colore rosa che riempie la carta bianca abbiamo quindi l'illusione di vedere il rosa e invece c'è soltanto delle linee rosse incrociate e della carta bianca sotto nient'altro niente colore rosa dice quindi guardate avete l'illusione di vedere il rosa avete l'illusione di vedere questo e quindi giudicate che c'è rosa dentro e nello stesso modo giudicate di avere la coscienza e invece non ce l'avete questo è molto affascinante e allora si può domandare per chi ha importanza che ci sia o non ci sia coscienza se non c'è coscienza che cosa vale questo giudizio di esserci o di non esserci coscienza se non c'è coscienza posso aggiungere qualcosa quando tu hai l'illusione di vedere diciamo un lago nel deserto si chiama il miraggio così si chiama il miraggio vedi un lago invece non c'è un lago che cosa hai hai coscienza di vedere un lago e quindi giudichi giudichi che c'è un lago e invece non c'è perché quando vai avanti e provi a tuffarti nel lago e beh non c'è lago e c'è soltanto la sabbia dunque c'è coscienza di vedere il lago ma invece non c'è e come si prova che non c'è perché provi a tuffarti dentro e non hai coscienza di tuffarti hai coscienza che è sempre la consistenza della sabbia dunque una coscienza qui contraddice una coscienza precedente e dice infatti quindi era un'illusione ma adesso nell'illusione di Dennett dov'è la coscienza che dice il tuo giudizio di esistenza di coscienza era sbagliato se non c'è coscienza allora non c'è coscienza di 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 errori e quindi non c'è illusione e poi potremmo dire potremmo chiederci anche ma come cambia la vita di una persona nel momento in cui diciamo che non c'è coscienza poi se non c'è coscienza che differenza c'è fra essere coscienti che la coscienza esiste esatto e sapere e quindi essere coscienti che non esiste perfettamente esatto sì perché quando noi contrastiamo tra coscienza e non coscienza contrastiamo con uno stato per esempio vigile presente e uno stato addormentato di cui ci ricordiamo di non avere memoria e quindi facciamo la differenza ma che cosa è la differenza tra coscienza e non coscienza per uno zombie che non è cosciente niente niente non c'è differenza comunque rimane il problema di trovare il modo di parlare di coscienza che come abbiamo detto ha la caratteristica di essere essenzialmente soggettiva nell'ambito scientifico che invece è un ambito essenzialmente oggettivo diciamo che questa esigenza nasce anche dal fatto che il metodo scientifico nella sua oggettività è anche vuole essere molto rigoroso allora come mantenere il rigore che c'è nella scienza però senza far diventare oggettivo qualcosa che è sostanzialmente soggettivo e la scienza attuale la neurologia specialmente e anche la psicologia si occupano di coscienza ma quando dicono che si occupano di coscienza si occupano infatti dei fenomeni che noi pendiamo per segni di coscienza dall'altro dalle altre persone per esempio quando un neurologo vede un paziente che non si muove che è coricato che non risponde alle domande dice non ha più coscienza e io voglio prima di tutto sembra che non è più cosciente ma io voglio sapere se è vero che non è più cosciente voglio sapere se nel futuro ha una probabilità alta o debole di svegliarsi e di ridiventare cosciente quindi di rispondere alle mie domande perché sarà questo il segno del suo risveglio dunque la scienza stabilisce delle connessioni tra fenomeni e segni fenomeni neurologici e segni apparenti di possibilità di avere un'esperienza che è soltanto quello il essere coricato il essere non capace di rispondere oppure invece l'essere diciamo vigile l'essere capace di rispondere e fanno anche una cosa molto interessante hanno fatto una correlazione tra le due cose tra per esempio l'attività del cervello di un certo tipo e la presenza o la non presenza di questi segni di vigilanza e dopo possono estrapolare e dire se una persona per esempio ha questi questo funzionamento cerebrale normale ma non mi risponde forse vuol dire che non è capace fisicamente di rispondermi e c'è un caso molto conosciuto il locked in syndrome in cui tutte le capacità di rispondere sono inattivate perché c'è una lesione precisissima in un punto preciso dell'apparato nervoso e invece la corteccia cerebrale continua a funzionare ma continuare a funzionare non basta bisogna anche per giudicare che la persona infatti è cosciente anche se non lo può manifestare bisogna un'altra cosa bisogna che noi vediamo che il suo cervello con la sua attività risponde in modo organizzato alla nostra sollecitazione domandiamo e se mi ascolti puoi per esempio pensare a una partita di tennis e la persona se ha il locked in syndrome ci pensa e ha un'attività cerebrale che assomiglia a quella di una persona normale che pensa a una partita di tennis e diciamo questo è il segno che la persona infatti è cosciente abbiamo catturato la coscienza oggettivamente o no in questo caso io dico no ma abbiamo catturato una connessione oggettiva tra fenomeni oggettivi che sono i segni di risveglio e i processi neurali ma la sola persona al mondo che ci potrà dire il neurologo aveva ragione di pensare che ero cosciente a questo momento e il paziente o se stesso se un giorno la sua lesione è riparata e si va bene così e ci dice ah sì infatti ero cosciente a questo momento e ero disperato che nessuno lo sapesse e quando il neurologo è venuto e ha detto a tutti infatti questa persona è cosciente mi sono rallegrato perché mi sono detto finalmente qualcuno lo sa che sono cosciente quindi questo soltanto la persona lo potrà dire soggettivamente nessun altro quindi la scienza può molto ma non può andare fino al catturare della soggettività ma può molto ancora una volta può avere un ruolo etico il ruolo di massimizzare le circostanze dove noi teniamo un essere come un soggetto e quindi come un essere cosciente quindi è un ruolo importante che può giocare la scienza anche se non ha questa capacità di afferrare la soggettività indirettamente è potente ma bisogna che sappia che questo è soltanto indiretto e Francisco Varela aveva proposto il metodo neuro fenomenologico che in qualche modo è molto simile a mi pare a quello che hai appena raccontato cioè mettere in correlazione gli aspetti in terza persona con gli aspetti invece in prima persona dove uno racconta la propria esperienza dal punto di vista fenomenologico ecco questo metodo proposto da Varela può effettivamente essere utile per studiare le caratteristiche della natura della coscienza sì il metodo di Francisco Varela l'ha elaborato anche in risposta al problema difficile di Chalmers è detto vero il problema dell'origine fisica della coscienza è un problema difficile nel senso di Chalmers quindi impossibile impossibile da risolvere ma noi se adesso ammettiamo la cosa più ovvia della nostra vita vuol dire ammettiamo che noi siamo esseri coscienti possiamo andare avanti con questo vuol dire sviluppando la nostra conoscenza della nostra esperienza in prima persona e correlandola con i fenomeni neurologici vedi anche questo è un po' importante e Francisco Varela lo sottolineava tutta questa correlazione neurofenomenologica vuol dire tra fenomeni neurologici e il fenomeno mazziccio dell'esistenza del fenomeno che noi chiamiamo l'esperienza o la coscienza si svolge sempre sul terreno dei fenomeni perché non c'è altro il rapporto tra un fenomeno particolare neurologico e il esserci della fenomenalità l'esistenza di dell'apparire e questo si può fare si può vedere se ci sono correlazioni tra certi eventi neurali e certi contenuti di esperienza ma non soltanto questo sviluppare la correlazione migliorarla come per esempio guidandosi con la neurologia per farsi attenti ad eventi dell'esperienza a cui forse non sarebbero non sarebbero stati attenti se non ci fosse stata la neurologia per esempio ci sono eventi molto sottili che in genere non sfuggono fuggono e invece se un neurologo ci dice a questo punto c'è stato un piccolo evento nel tuo cervello dopo ci torniamo può darsi che stiamo attenti e siamo più consapevoli di quello che è successo e viceversa ci può ci può darsi che c'è un certo evento nell'esperienza che porta attenzione del neurologo su un certo evento del cervello che lui non aveva notato prima oppure anche e questo è più generale un'esperienza dà senso a un certo evento neurale se noi eravamo solo scienziati studiando il cervello e basta il cervello come un oggetto va bene vediamo tanti eventi strani più o meno neuroelettrici vediamo eventi chimici eccetera ma che cosa vogliono dire che cosa che cosa significano ma invece se qualcuno dice quando c'è questo evento io vivo quello allora sappiamo che cos'è il significato dell'evento neurale quindi la circolazione tra neurologia e studio dell'esperienza in prima persona che una disciplina della filosofia chiamata fenomenologia ha molto sviluppata questa relazione può essere una nuova scienza della mente una scienza che non è monca una scienza che che tiene i due lati del fenomeno mentale insieme il fenomeno mentale visto dall'esterno da un osservatore e il fenomeno mentale visto dal soggetto se stesso che è la coscienza bene veniamo adesso al rapporto fra coscienza e meccanica quantistica in quest'ambito devo dire che la prima cosa che viene in mente è la proposta di von Neumann e di Wigner una delle caratteristiche della meccanica quantistica è che essa prevede che ci siano stati fisici sovrapposti famoso da questo punto di vista è il cosiddetto paradosso del gatto di Schrödinger secondo il quale in certe situazioni un gatto dovrebbe trovarsi in una situazione sovrapposta vivo e morto però evidentemente noi non vediamo mai un gatto né alcunché in una situazione così ambigua e dunque c'è il problema di come si passi da questo stato di sovrapposizione a uno stato vivo gatto vivo oppure gatto morto che sono gli stati effettivamente che noi osserviamo von Neumann e Wigner propongono che il cosiddetto collasso della funzione d'onda sia dovuto proprio alla coscienza ecco tu sei d'accordo con questa proposta con questa interpretazione no affatto no non sono d'accordo per una ragione semplice e che fanno un doppio errore quelli che propongono questo il primo errore è di considerare che la funzione d'onda è una descrizione di una realtà oggettiva materiale e il secondo errore è di considerare che la coscienza è una cosa ma che è una cosa eterogenea alla materia e quindi è un dualismo c'è la materia da una parte la coscienza dall'altra parte e la coscienza arriva per risolvere un problema un po' delicato della descrizione della materia che è la sovrapposizione di stati contradditori come gatto vivo o gatto è gatto morto no o è gatto morto e questo non soltanto il doppio errore come ho detto ma anche un triplo errore perché si aggiunge il dualismo che è anche un errore invece adesso consideriamo le cose con sangue più freddo e vediamo che cos'è la funzione d'onda serve a che cosa la funzione d'onda a calcolare delle probabilità probabilità di ottenere un risultato sperimentale oppure nel caso che descrivi è la probabilità di vedere il gatto morto oppure di vedere il gatto vivo adesso se la funzione d'onda è soltanto un strumento per calcolare le probabilità o per semplificare perché c'è poco tempo diciamo la funzione d'onda è una probabilità allora non c'è da meravigliarsi che quando quando abbiamo l'informazione sul fatto che il gatto è trovato vivo o che il gatto è trovato morto la probabilità salta da per esempio un mezzo a uno perché adesso siamo sicuri che se torniamo nel laboratorio troviamo di nuovo il gatto vivo per esempio dunque questo adesso non è più sorprendente non c'è bisogno di una coscienza che agisce sulla materia per cambiare una probabilità da un mezzo a uno c'è soltanto bisogno di diciamo di cambiare lo stato di informazione dell'osservatore perché la probabilità è uno strumento matematico che serve all'osservatore a prevedere il meglio possibile un certo evento se ha informazione addizionale deve modificare il suo strumento di previsione per tener conto di questa informazione quindi questo non è misterioso è soltanto diciamo una modifica dello strumento matematico per tener conto dell'informazione addizionale che si ha e quindi non c'è bisogno di questa fantasmagoria di materia che è cambiata dall'intervento di una nuvoletta chiamata coscienza sì quindi interpretando la funzione d'onda in modo diverso risolviamo direi in maniera decisamente più semplice il paradosso di Schrodinger viene comunque da chiedersi se nella meccanica quantistica l'osservatore ha comunque un ruolo e che ruolo ha ha un ruolo capitale perché la meccanica quantistica è uno strumento al servizio dell'osservatore per prevedere il risultato degli esperimenti e per usare questa capacità di previsione per fabbricare degli strumenti utili che funzionano quindi è assolutamente capitale e strumenti che funzionano vuol dire strumenti che rispondono ai bisogni degli esseri umani che hanno fabbricato questa teoria se no non serve dunque l'osservatore o l'essere umano nella meccanica quantistica ha un'impostanza cruciale perché è quello che elabora una teoria per i suoi scopi e dà significato ai risultati rispetto a queste anticipazioni teoriche che fa è capitale è capitale e non si può fare a meno quelli che dicono ah ma la fisica quantistica descrive il mondo come funziona indipendentemente di noi pensano che penso che sono che sono sbagliano sbagliano quindi l'osservatore è il portatore del significato che dà senso in qualche modo al calcolo probabilistico che è al centro poi della meccanica quantistica la meccanica quantistica se si vede come un super calcolo delle probabilità non è una descrizione del mondo come è indipendentemente di noi è una descrizione perfetta meravigliosamente accurata delle nostre migliori capacità di orientarsi e di prevedere le cose che succedono e per questo è un successo fantastico è il più grande successo della storia della scienza eppure non ha se si vede bene l'ambizione di svelare il mondo com'è e in un articolo tu contrapponi l'idea di scienza diciamo tradizionale classica che si è sviluppata intorno allo sguardo da nessuna parte ha invece una scienza che poi serve la meccanica quantistica interpretata come fai tu alla base della quale invece c'è uno sguardo situato ecco vuoi spiegare meglio cosa intendi con questo sì infatti la meccanica classica diciamo aveva l'ambizione di descrivere le cose completamente dall'esterno in modo di non non committal come dicono gli inglesi di non questo me lo dici tu di non implicarsi nel processo senza coinvolgimento personale esatto non coinvolgersi nel processo invece guardarlo dall'esterno e descriverlo com'è pure l'uso della meccanica classica non è così diciamo distante perché la cosa importante che si fa nella meccanica classica è di dire io ho osservato che una particella è qui a un certo momento e a una certa velocità a questo momento e la meccanica classica mi permette di prevedere che se io decido di osservare questa particella vedrò che è qui un altro posto con un'altra velocità che posso calcolare quindi e la meccanica classica è una descrizione da fuori una descrizione che sembra completamente esterna ma il suo uso è diciamo situato stabilisce un dialogo tra questa immagine completamente statica esterna del mondo e diciamo l'essere umano che la usa per uno scopo preciso e lo scopo preciso è di sapere che cosa succede qui in questo laboratorio dove sono e dove osservo la particella dunque qui c'è un dialogo tra un modello un po' diciamo esterno e un uso diretto un uso situato nella meccanica quantistica la novità della meccanica quantistica è che mantiene la capacità e anche estende in un modo straordinario la capacità di previsioni situati di previsioni di quello che succede nel laboratorio qui quando è successo un'altra cosa per esempio in un altro laboratorio o all'inizio dell'esperimento nello stesso laboratorio senza mai sviluppare un modello come se fosse una descrizione esterna una vista da nessun parte del mondo dunque è una vista completamente situata la meccanica quantistica dice soltanto se voi fate questo ottenerete questo ma non dice le cose sono così anche se non fate niente non dice niente su questo punto non dice né che non c'è una tale cosa né che c'è come diceva Heisenberg Werner Heisenberg l'autore delle famose relazioni d'incertezza diceva la parola o il verbo succedere ha senso soltanto quando si fa un esperimento ma nel frattempo tra due esperimenti la parola non ha senso non vuol dire che non succede niente ma questo non ha senso neanche domandarlo perché la meccanica quantistica funziona perfettamente senza mai fare questa domanda su che cosa succede tra due eventi sperimentali quindi ha senso parlare di un sistema fisico solo se definiamo il contesto sperimentale in cui ci mettiamo altrimenti non ha neanche senso parlare delle proprietà del sistema stesso e a seconda del tipo di contesto sperimentale che prepariamo come dire la risposta della natura può essere differente esatto e anche penso potrei anche aggiungere qualcosa a quello che diceva Werner Heisenberg se si dice ok ma forse la natura sa dove la particella io non lo so ma forse la natura sa allora si fa un modello della traiettoria della particella questo si chiama una teoria variabile nascosta ma a questo punto si arriva delle difficoltà per fare funzionare una teoria variabile nascosta che fa le stesse previsioni della meccanica quantistica si deve ammettere strane proprietà della teoria per esempio una proprietà che dice che si chiama il contestualismo che dice che forse la particella fa questo quando non la vedo ma quando voglio vederla devo usare un apparato e modifica la traiettoria dunque la traiettoria di una particella come quando non la guardo non la potrò mai afferrare quindi la realtà è sfuggente la realtà è sfuggente secondo la teoria che dice che la realtà si può descrivere e questo mi sembra come una contraddizione interna filosofica la scienza funziona bene le teorie di questo tipo funzionano come strumento di riproduzione delle stesse predizioni della meccanica quantistica ma hanno per me come un verme nel frutto un'anomalia filosofica e invece la meccanica quantistica pura non ha questo verme nel frutto e diciamo è sufficientemente prudente per non avere questo tipo di problemi filosofici bene e con questo concludiamo questa interessante intervista e ringraziamo Michel Bitbol grazie 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 grazie